Dal Vangelo secondo Matteo In quei giorni venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea dicendo Convertitevi, perché il Regno dei Cieli è vicino. Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaia quando disse Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi. Il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro «Razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione e non crediate di poter dire dentro di voi «Abbiamo Abramo per padre». «Perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figlie ad Abramo. Già la scura è posta la radice degli alberi, perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell'acqua per la conversione, ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno di portargli i sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e purirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile». Parola del Signore In questa seconda domenica di Avvento risuonano le grandi voci di questo tempo, di questo tempo di attesa, di questo tempo di venuta, come ricordo vuol dire la parola Avvento. Le grandi voci sono il profeta Isaia, che oggi ci racconta il suo sogno di un mondo finalmente pacificato e quanto ne abbiamo bisogno, un mondo dove il leone insieme all'agnello, la mucca e l'orsa pascolano insieme, cioè un mondo che ha ritrovato veramente l'armonia iniziale, l'armonia della creazione. Di com'è lo sogna e lo ha sognato sempre Dio, un mondo finalmente riconciliato. E l'altra grande voce dell'Avvento è Giovanni Battista. Giovanni Battista è questa voce che grida nel deserto, un po' perché è effettivamente fisicamente nel deserto di Giuda, vicino al fiume Giordano, e un po' perché è davvero voce che grida nel deserto, cioè voce inascoltata, ma è voce piena di fuoco, è vestito con peli di cammello, è una cintura, cioè è vestito come gli antichi profeti e in particolare come il profeta Elia. E' lui l'Elia che doveva tornare, secondo la tradizione della Bibbia, doveva tornare a preparare la strada appunto a colui che deve venire al Messia. E Giovanni continua a farlo, continua a farlo per sempre. La sua voce risuona nella Chiesa come invito, anche per noi oggi, a preparare le strade al Signore. Questa è l'altra grande parola, se la prima domenica avevamo come parola chiave, vegliate, state svegli, oggi abbiamo come parola preparate la strada al Signore che viene, raddrizzate i suoi sentieri. E' una predicazione piena di fuoco, razza di vipere, dice ai farisei, ma lo dice anche a noi, fate un frutto degno di conversione, convertitevi, cambiate vita, cambiate stile. E tutti sentiamo quanto sia attuale questo richiamo. Cambiare stile di vita ce lo dicono tutti, se vogliamo conservare il pianeta dobbiamo cambiare il nostro modo di vivere, se vogliamo costruire la pace dobbiamo costruire relazioni diverse, se vogliamo la giustizia dobbiamo cambiare il nostro sistema economico, finanziario, sociale. Quante conversioni? Ma la prima conversione, quella fondamentale da cui tutte le altre nascono e derivano, è la conversione del cuore. E' dentro di noi che dobbiamo preparare la strada al Signore. Che significa preparare la strada? Può significare tante cose, vuol dire un maggior ascolto della parola e un maggior ascolto dei fratelli, un maggiore silenzio, una maggiore sobrietà, andare all'essenziale, un maggiore ascolto dei poveri, non solo ascolto ma anche vicinanza. Preparare la strada al Signore vuol dire tante cose e ognuno di noi, ecco, in questo tempo che ci separa dal Natale, è invitato a chiedersi come io devo preparare la strada nella mia vita, nel mio cuore, nel mio modo di relazionarmi con gli altri, come devo preparare la strada al Signore, che cosa posso fare, ma che cosa posso vivere dentro, dentro il mio cuore prima di tutto, per preparare la strada al Signore. Ecco, è una bella domanda, se questo tempo di avvento ci aiutasse solamente a fermarci su questa domanda, avremmo già fatto un bel passo, come posso preparare la strada al Signore, nel mio piccolo, nella mia casa, nel mio cuore, nella mia vita. Grazie. 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 Grazie.